Ciao ragazzi, dopo aver provato l'Astrar da 1,6 grammi con la nuovissima Dyslave a 62 ml Gaia Blitz vado a provare e a presentare una novità appena arrivata grazie a T3 Distribution in Italia che è il Gigabast nella versione 2 grammi, quindi uno spoon ovviamente compatto dà un movimento abbastanza ovviamente stretto e rapido durante il recupero quindi spoon è ideale nelle fasi iniziali di gara, magari con le colorazioni più accese ovviamente ma altrettanto valido a mio avviso, ma lo sto provando per la prima volta anche sul fondo in caso di pesce abbastanza apatico con mangiate molto molto corte scelgo questa colorazione perché è freddo, siamo in un lago stanziale, il pesce è piantato sul fondo quindi vado con un colore ovviamente che rispecchi il sole, ovviamente rifletta il sole che penetra nel lago, è un colore abbastanza naturale, quindi questo ha un fondo, ha un retro nero e davanti è un nero metallizzato glitterato con una piccola sfumatura gialla lo lascio scendere sul fondo ovviamente questo lago è a profondo 2,70 m quindi in 10-12 secondi siamo sul fondo quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.